L'aspetto principale per quello che riguarda chi si occupa come noi delle attività domiciliari di alta intensità è quello di richiamare l'attenzione al Ministero della Salute di puntare a un accreditamento che valorizzi il carico di lavoro che noi facciamo e la valorizzazione del paziente. Noi tocchiamo i pazienti molto gravi a domicilio, tocchiamo le loro famiglie e quindi su questo noi pensiamo sia necessario che puntare a un accreditamento di alto livello quindi creare delle specializzazioni di accreditamento dei provider perché altrimenti se no un unico calderone potrebbe non essere adatto a quello che è la reale gestione del paziente cronico.